Francesco Dopo la grande rinuncia a Francesco, sentì di aver conquistato la libertà. Visse per tre anni nella solitudine più completa, percorrendo un cammino che nessuno aveva mai percorso. Non entrò in nessuno schema, né monaco né sacerdote. Si lanciò in un'avventura splendida, con la fede semplice di un bambino e il coraggio di un cavaliere. Signore mio, che cosa vuoi da me? Cosa devo fare? Chi sono io? Lei è guerriero, il mercante. Padre mio, dimmi tu, cosa devo fare? Francesco Francesco Chi vuole salvare la sua vita, la perderà. Chi muore in mio nome, otterrà la vita eterna. Francesco 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 Bacca 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 E ricostruisci la mia casa. Cosa Miserere, misero me, però brindo alla vita. Ma che mistero, è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno Tantamina, un menzognero. Ma dove sono e cosa faccio? Come vivo, vivo nell'anima del mondo. E al sole il vivere profondo. Come vivo, vivo nell'anima del mondo. 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 bambino povero, come le mani e i piedi di un vecchietto per strada che ti chiede da mangiare, non si può descrivere, il mio cuore di pietra ricomincia a battere, i polmoni si riempiono d'aria, ho bisogno di fare la carità per vivere. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti